Il trend di contagi nell'agrigentino non si abbassa. Tre trentenni di sciacca sono risultati positivi al covid-19. Un altro saccenze nella giornata di ieri è stato ricoverato all'unità operativa di malattie infettive dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Anche lui era risultato positivo al coronavirus. A rendere noto il ricovero attraverso il quotidiano bollettino è stato il direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale Nissena. A malattie infettive nel giro di pochi giorni è raddoppiato il numero di pazienti che vengono assistiti dai medici. I positivi a sciacca salgono a 15 e dovrebbe essere la città con il maggior numero di contagi. I tre nuovi casi non sono collegabili con il focolaio della cerimonia nuziale. Due nuovi tamponi positivi a Licata e uno a Cattolica Eraclea. A Cattolica i casi di covid-19 sono saliti a sei. L'ultimo caso ha riguardato una delle 83 persone poste in via precauzionale in isolamento. È stata effettuata la disinfezione del parco giochi di Padre Pio e dello stadio comunale. In occasione della costituzione del seggio elettorale sarà effettuata la disinfezione della scuola media di Largo Pertini. Nei prossimi giorni sarà programmato un intervento di disinfezione delle vie del Paese. Ha reso noto il sindaco di Cattolica Eraclea, Santo Borsellino. A Grotte, dopo il guarito del primo caso, restano due positivi nel Paese e 23 persone in isolamento fiduciario. Sale a tre il numero dei contagiati da covid-19 a Favara. Si tratta della moglie del 51enne libero professionista di cui la sindaca annunciava la positività al covid. La donna si trovava già in quarantena fiduciaria. Oltre i due coniugi attualmente risulta positivo al virus, anche un 73enne favarese. Impennata di casi di coronavirus in Sicilia e purtroppo salgono anche le vittime, ben tre segnalate nel giro di 24 ore. Record di tamponi, quasi 6.000, mai così tanti. I nuovi contagi sono 90. Complessivamente sono 1.988 positivi attuali, 155 ricoverati con sintomi, 16 in terapia intensiva e 1.817 in isolamento domiciliare. Sono 5.473 i casi totali, 3.190 i dimessi guariti, 295 i deceduti, 3 in più rispetto al giorno prima. Significativo l'incremento dei tamponi effettuati pari a 5.809. Le vittime si registrano a Palermo, a Catania e a Siracusa.